Rito abbreviato per il fotografo pedofilo ebolitano che nei mesi scorsi avrebbe abusato sessualmente di una ragazzina di appena 11 anni a Battivaglia. Il difensore dell'imputato che da novembre scorso è detenuto nella casa circondariale di Vallo della Lucania e che ha rinunciato a comparire in aula, ha richiesto ed ottenuto che l'assistito venga giudicato con il rito abbreviato, rinunciando così al dibattimento, ma beneficerà dello sconto di un terzo sull'eventuale pena che gli sarà inflitta. La prossima udienza è prevista per la fine di giugno. Ieri è stato anche il giorno della Costituzione delle parti civili, ovvero la piccola, il padre e la madre. Intanto, contrariamente a quando previsto dalla delibera con la quale l'aggiunta comunale di Battivaglia, guidata dalla sindaca Cecilia Francese, che aveva annunciato da avere intenzione di esercitare l'azione legale, si impegnava a comparire in tutti i procedimenti penali con le donne e i minori come vittima di violenza. Il comune di Battivaglia non si è costituito nel giudizio. L'episodio di cui è accusato il 38enne risale al 4 luglio scorso. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Battivaglia agli ordini del capitano Samuele Bileti. La ragazzina fu adescata tramite social dal sedicente fotografo di nudo artistico, tramite un account che quest'ultimo usava per pubblicare scatti erotici. Prima su social e poi su telegram, con un'utenza telefonica intestata ad un cittadino pakistano, il pedofilo ha carpito la fiducia della piccola. Venendo a sapere che quel giorno sarebbe scesa di casa per fare la spesa e poi nei pressi di un supermercato, in via Rosaiema, la ragazzina è stata costretta a salire nel velicolo del 38enne e poi sarebbe avvenuto lo stupro.